ragazzi sembra che sia arrivata l'altra stagione è scoppiata così all'improvviso oggi c'è un sacco di gente c'è un sacco di macchine parcheggiate c'è gente, c'è gente di piaggia camminano si calda quasi l'altra stagione non ho parole che sta succedendo? che sta succedendo? sono scappati quali di pancom si giocano anche a pallamolo sono spettato tu hai visto che qua? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ripassiamo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.